Questa mattina i giocatori della Cremonese hanno affrontato un allenamento molto speciale, un'appassionante sfida a calcio balilla contro gli ospiti della società cooperativa LAE. Non sono riusciti ad uscire dal campo vittoriosi, ma sono comunque tornati a casa ricchi di gioia, sorrisi e grandi abbracci. L'incontro con la squadra grigiorossa per lo scambio degli auguri natalizi è divenuto ormai un appuntamento fisso che ospiti e operatori della cooperativa attendono con grande entusiasmo. Il giocatore più applaudito è stato il capitano Andrea Brighenti. Mister Pea invece è stato a colloquio con diversi ospiti per ascoltare i consigli tattici che permetteranno alla squadra di esaudire il desiderio di Natale espresso da questi tifosi, vincere tutte le partite. Una giornata speciale, una giornata speciale anche per noi, perché trascorre comunque qualche momento con questi ragazzi è sicuramente un momento molto bello che ci arricchisce dal punto di vista umano. Gli ospiti della cooperativa sono particolarmente tifosi. Chi ha parlato oggi ha chiesto che i ragazzi vincano a tutti i costi. Vincano a tutte le partite, perché è giusto che sia così. È la bellezza di questi ragazzi, la voglia che hanno. Qualcuno di loro mi ha seguito per tutto il tempo ed è una cosa bellissima, ripeto, dal punto di vista umano ti arricchisce tantissimo e ti fa crescere tanto. È una cosa molto, molto importante anche per noi. Buonanotte!